Il Ministero della Giustizia erogherà nei prossimi giorni ai comuni italiani sedi di uffici giudiziari quasi 60 milioni di euro come acconto delle spese sostenute per la loro gestione nel 2013. Di questa somma 27 milioni andranno per le sedi di corte d'appello, 26 per quelle di tribunale. La parte rimanente sarà suddivista tra comuni che ospitano gli uffici dei giudici di pace e quei comuni sedi ristaccate nei tribunali soppressi. L'importo annuale erogato prevede il pagamento di una prima rata di acconto pari al 70% dello stanziamento assegnato e la seconda come conguaglio. I comuni pugliesi sedi di uffici giudiziari riceveranno nei prossimi giorni dal Ministero della Giustizia oltre 5 milioni di euro come acconto per le spese di gestione. In particolare alle corti di appello andranno 2,3 milioni riferite alle sedi di Lecce e Taranto. Ai tribunali ci sono Foggia e Trani nel distretto di Bari e Brindisi nel distretto di Lecce andranno 2,2 milioni, mentre alle sedi ristaccate 135 mila euro. Per quanto riguarda invece le sezioni distaccate soppresse in arrivo quasi mezzo milione di euro e circa 120 mila euro per i giudici di pace.